eccoci siamo online intanto sia come osservatorio unione europea sia come laboratorio sud e transform Italia ospita questa iniziativa che insieme ai comitati per difesa per contro ogni autonomia differenziata scusate ma telefono mi distrae e abbiamo promosso questo incontro per ragionare un po' su quello che è appunto uno degli aspetti che interessa maggiormente soprattutto la questione meridionale che noi abbiamo seguito in passato cioè la transizione ecologica e l'impatto che questa ha nelle in alcune regioni del nostro paese e in particolare appunto quel combinato discorso che è l'autonomia differenziata e il PNRR quali saranno gli impatti che questi provocheranno nelle regioni meridionali. Io do subito la parola a Marina Boscaino che per noi diciamo modera e gestirà questo incontro e ringrazio Andrea Masullo che diciamo il nostro esperto nel campo dell'energia che qui ci darà un po' di informazioni in più rispetto a questo. Vi richiedo di chiudere il microfono per chi non è diciamo eh tra i relatori e e le ringrazio ancora chi partecipa a partire da Marina da cui do subito la parola. A te Marina. Grazie Roberto volevo ringraziare prima di tutto l'osservatorio Unione Europea, il laboratorio Sud che insieme eh da tempo ci aiutano a comprendere una serie di problematiche che riguardano appunto in questo caso il rapporto tra eh Unione Europea e il Sud del nostro paese e in questa situa in questa occasione particolare eh i comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata e il tavolo NOAD che hanno organizzato insieme questa iniziativa e la collaborazione sempre appunto di transform. Oggi eh ci parlerà Andrea Masullo che è un ingegnere elettronico e docente di teoria dello sviluppo sostenibile all'Università di Camerino e nel Master Ambiente, Pace e Sviluppo presso la Pontificia Università Urbaniana e responsabile e responsabile dell'unità clima energia del WWF in Italia e fa parte del consiglio direttivo di Italia. Ha scritto moltissimi testi e articoli su temi che riguardano l'ambiente dello sviluppo e dell'energia. Per quale motivo i comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata e il tavolo NOAD sono interessati a in particolare a questo problema eh e sul fronte dell'energia il sud Italia ci dicono può diventare l'hub del Mediterraneo mettendo così in connessione la sponda sud con quella nord e assumendo la leadership ipoteticamente di una strategia regionale energetica. oltre il sud a produrre già il cinquantadue virgola tre per cento della quota nazionale di eolico solare e di bioenergie il sud ha un ampio potenziale in ambiti e tecnologie nascenti come l'idrogeno e l'energia connessa al modo al moto ondoso. Eh per favorire leggo eh quanto su quanto sono riuscita a documentarmi questa evoluzione è necessaria un'ulteriore semplificazione di norme e procedure al fine di creare un distretto associato alle energie del mare così come eh provvedere ad ad ulteriori eh potenziamenti di eh strutture esistenti promuovere una conferenza mediterranea sul tema coinvolgere i territori per superare le varie resistenze che ostacolano lo sviluppo di nuovi impianti rinnovabili o di altri progetti. Paolo Gentiloni ha dichiarato recentemente a Napoli che ci sono almeno due ragioni che spingono a dire che oggi questa occasione eh c'è in a a causa del in virtù della prospettiva Euromed. La prima dice Gentiloni è il tema della disponibilità di risorse parla di una quantità di risorse disponibili per il mezzogiorno. Ottantasei miliardi da qui fino al ventisei solo con il PNRR. E eh si chiede se eh siamo in grado in Italia di assorbire questa straordinaria quantità di risorse capace di portare eh secondo le sue parole la quota di PIL del sud Italia dal ventidue al ventitré virgola cinque per cento. Sottolinea come la guerra abbia svelato la dipendenza europea dal gas lusso e eh la risposta a questo disvelamento e e da questa dipendenza è stata straordinaria in dieci mesi abbiamo ridotto le importazioni di gas russo dal quarantadue al sette per cento e e quindi eh diciamo che eh a questo va aggiunto alla consapevolezza che le rinnovabili già nel mezzogiorno eh contribuiscono per oltre il cinquantacinque per cento. Quindi sembrerebbe tutto bene per il sud Italia. Peccato che pochi giorni e questo tutte queste dichiarazioni sono state prodotte pochi giorni dopo che il direttore della Svimez Luca Bianchi ha decretato tra le altre cose parlando dei LEP e quindi parlando del progetto eh diciamo del del dispositivo individuato all'interno della legge di bilancio dal governo e dal ministro delle regioni Calderoli che occorrerebbe un fondo perequativo pronto ad entrare in azione sia pure seguendo un calendario per finanziare i livelli essenziali di prestazione uniformi e colmare i divari del centro sud. Eh per calcolare l'ammontare la quota che servirebbe servirebbe una mappatura del dei LEP che dice Bianchi richiederebbe tempo. Tuttavia è credibile che per colmare il gap siano necessari almeno cento miliardi di euro. Quindi una cifra impensabile nel breve periodo eh Bianchi sostiene che non c'è bisogno di una riforma lampo ma di un percorso graduale cioè di un nuovo patto sociale per consentire al centro sud di recuperare terreno senza pregiudicare il nord. Al tempo stesso lui però afferma che eh non il nord non può ottenere ulteriori aumenti dalle risorse erariali finché il resto del paese non abbia raggiunto un livello di guardia accettabile. Eh Bianchi sostiene che ci sia bisogno di una diversa congiuntura economica. Il paese deve riprendere a crescere non dello zero virgola nove per cento come nelle grigie previsioni del ventitré e eh e e e rispondendo a chi eh affermerebbe a questo proposito che così si ferma la locomotiva del nord Bianchi dice peccato che dati alla mano questa locomotiva non traini più il paese da tempo. Il nord è da sempre più ansimante cresce meno del resto d'Europa e quindi eh questo qui sta il motivo per della congiuntura tra l'osservatorio eh dell'Unione Europea e il laboratorio sud eh i comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata il tavolo no a di cioè l'autonomia di Calderoli continua a garantire continuerebbe a garantire il mantenimento di privilegi perché di fatto costituzionalizza la spesa storica e lascia indietro almeno venti milioni di persone che sono immobilizzate in ibernate in quel mezzogiorno ormai da tempo con la riforma del titolo quinto anche cancellato dalla costituzione italiana rinunciando così a fare dell'Italia l'hub economico del Mediterraneo occidentale quindi eh tutto bene per il sud questo io non lo so certo ci sono dei dubbi eh e per rispondere eh a questa domanda per farci capire meglio le connessioni e la problematicità di questo problema di questa situazione lascio la parola appunto ad Andrea Masullo che ringrazio molto Andrea deve sentire il microfono credo che abbiamo qualche problema tecnico con l'audio di Andrea aspettiamo qualche secondo che si ricolleghi eccoci forse così mi sentite perfettamente prego ecco volevo evitare la cuffia ma non ci sei riuscito va bene ecco io eh ti ringrazio per questa introduzione perché eh non ho eh eh non ho intenzione eh di eh affrontare il problema da un punto di vista eh puramente dei finanziamenti perché eh i finanziamenti valgono eh nella misura in cui sono indirizzati nella maniera giusta e preferisco eh iniziare a parlare di qual è questa maniera giusta cos'è la transizione ecologica perché la transizione ecologica può essere il volano di sviluppo del mezzogiorno perché il mezzogiorno d'Italia ha tutte le caratteristiche per essere il il non solo il traino energetico attraverso la transizione ecologica del paese ma con tutta l'area del dei paesi del mediterraneo eh europeo eh può eh far parte a ragione di una nuova polarità energetica che si sposta da nord a sud se basata sulle energie disponibili appunto a sud. Allora eh qui la questione principale poi però non vi preoccupate anche alle fonti alla quantificazione delle fonti ma la questione principale è una questione di di modello di modello di sviluppo e di modello energetico e se pensiamo che il sud di denaro di fiumi di denaro sull'energia indirizzata in maniera sbagliata ne ha e ricevuti e ne riceve tantissimi penso al petrolio della baldagri o al alla a questa idea di fare del lube del del gas metano eh fare tutto ciò che non eh riguarda lo sviluppo reale di questi territori ma soltanto lo sfruttamento di questi territori per creare sviluppo altrove eh andiamo con ordine la diciamo la il la cosa principale è avere un approccio orientato al cosiddetto bioregionalismo eh in che senso eh eh identificare eh le risorse energetiche in funzione delle caratteristiche ambientali del territorio delle caratteristiche sociali e della disponibilità locale delle fonti energetiche e se penso al io sapete insomma la mia famiglia viene dal sud dalla 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 provincia di Napoli e eh mi viene la prima cosa mi viene in mente perché l'ho visitata eh tempo fa con la mia associazione Green Accord alcuni anni fa eh l'incredibile sviluppo le 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 famose seterie di San Leucio no? Che cosa che il sovrano diciamo così il despota illuminato che decide di portare qualcosa che non c'era in quel territorio come l'allevamento dei bacchi da seta che vengono da dall'estremo oriente e su questo costruire perché c'era l'acqua c'era tutti c'erano tutti gli ingredienti costruire un un uno sviluppo legato strettamente benché artificiale in un certo senso rispetto al al territorio alla natura esistente però legata al territorio quindi c'è eh la eh l'esigenza di mantenere eh eh una coerenza eh di tempistiche tra natura la la coltivazione del 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 gelso la i tempi della della crescita del baco da seta eccetera e industria e crea un'intera città eh operaia in questa direzione in cui tutti i cittadini sono impegnati in questa attività quindi in qualche maniera è un'attività che benché forzatamente però si inserisce in un contesto eh costruito sul territorio e che quindi ha la caratteristica di eh la possibilità di durare eh un altro esempio che voglio farvi è quello delle cartiere eh io mi riferisco ai esempi di posti che ho visitato e che ho studiato le cartiere svedesi tra Norcepping e Braviken ma è una cosa incredibile perché quelle cartiere vivono finché vive la foresta hanno una filiera completa la foresta eh eh che fornisce il legname e la cartiera che dà il tronco direttamente in una filiera e diciamo industriale che in vita mia non avevo mai visto non so se lunga quasi un chilometro eh il tronco che viene scortecciato da queste macchine cippato eccetera eccetera trasformato quindi alla fine di questa lunghissima catena escono questi rotoli di carta no? E e questo è un altro discorso di una eh qualcosa che dura ancora è qualcosa di eh nata eh all'inizio del secolo e che dura ancora anzi qualcosa che origina ancora più antiche e che comunque continua nonostante eh le le diverse rivoluzioni industriali che ci sono perché è legata eh al mantenimento della risorsa primaria che utilizza eh il sistema e quindi questo dà anche una stabilità di lavoro e di produzione e un altro esempio simile foresta e industria è invece tristemente noto è il rayon di Rieti non siamo al sud Italia però un esempio è sempre il legno che viene trasformato in qualcosa che nasce lì eh perché eh la provincia di Rieti è una delle province più eh boscate d'Italia forse la seconda dopo il Trentino per cui anche lì c'è un legame quando questo legame si rompe e la 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 rayon va a a a prendere il legname in Canada eh è lì che il sistema entra in crisi la eh la l'ossessione di realizzare massimi profitti e di non mantenere la stabilità di un'attività produttiva crea questa separazione tra ambiente e lavoro e e sviluppo e produzione industriale e infatti la 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 rayon non esiste più come non esiste tutto il polo poi elettronico che è stato creato intorno a questa presenza industriale che pure è scomparso completamente. Allora che cosa ci insegnano queste lezioni? Che cosa che cosa è successo? Quello che è successo è eh e veniamo finalmente all'energia è eh la eh diciamo l'avvento eh eh alla alla fine dell'ottocento delle energie fossili carbone, petrolio, metano, energie trasportabili che le prendo, le porto dove mi pare e e quindi il territorio diventa soltanto una piattaforma, non ho un grande interesse a legare la mia attività nel nel al territorio nel quale voglio operare eh mi basta che ci sia eh ci siano alcune infrastrutture se non ci sono me le costruisco e tutto ciò che mi serve me lo porto lì. È chiaro che questo non crea un legame di sviluppo, una stabilità economica, una prospettiva di sviluppo futura perché eh e infatti la storia che stiamo vivendo è proprio questa. Pensiamo alle eh acciaglieri di Taranto. Quando quando finiscono le condizioni, diciamo questa ossessione consumista di eh che diventa predatoria rispetto al ai territori dove si va a insediare perché poi quello che gli serve se lo porta da fuori e crea il tristemente noto fenomeno della globalizzazione, della delocalizzazione finché può sfruttare una certa situazione favorevole resta in quel posto. Quando trova mano d'opera più a buon mercato, situazioni più vantaggiosi da un punto di vista della rendita finanziaria, si spossa altrove tranquillamente, da un momento all'altro. Sappiamo quante tragedie e quante lotte fino alla al terribile e ignobile ricatto tra salute e lavoro che viene alle acciaieri di Taranto. Scusatemi se questa è una premessa forse un po' più politica che che tecnica ingegneristica, ma qui ci ci veniamo facilmente. Vi voglio soltanto leggere una cosa molto eh simpatica dell'amico Wolfgang Sachs che immagino che eh conosciate no del del Wuppertal Institute eh che è stato poi eh 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 anche presidente di Greenpeace Germania che ha scritto un belli un bel libretto Economia della Sufficienza. Sì mi sentite? Ho sentito una voce? Sì sì vai 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 tranquillamente. Ah vado. Allora vi leggo soltanto alcune cose perché sono molto significative. Eh solo alla fine del secolo il termine tempo assunse il significato di alta velocità. Il linguaggio rifletteva che l'ideale di movimento non era più ricercato nella giusta misura di ogni caso ma uniformemente nella massima velocità possibile. Con la vittoria delle macchine sui vincoli imposti dalla natura l'ideale di una velocità illimitata poteva ora realizzarsi. La cinetica o movimento è diventata l'etica del modernismo. La eh adesso fa un esempio divertente ma ve lo ve lo lascio un attimino per stemperare la eh eh la relazione. Cioè la costruzione di auto è un vezzettore in cui persiste caparbio lo spirito ottocentesco. Vengono offerte eh automobili sempre più veloci in grado di sviluppare una grande accelerazione e alte velocità come se ogni giorno dovessero gareggiare su lunghe distanze in autostrada. Tuttavia vengono usate eh prevalentemente eh in città dove la velocità è eh di dieci venticinque chilometri di media ecco per dire le eh assurdità. E torniamo al nostro tema perché poi Wolfgang da un sacco di spunti eh interessanti su questo eh su questo aspetto. Eh allora eravamo al discorso eravamo arrivati al discorso dell'energia. Allora eh qual è il eh ehm cosa dice rispetto alla sostenibilità ambientale eh il eh Millennium Ecosystem ehm rispetto a questa rottura delle del legame tra economia e ambiente. Eh allora abbiamo visto che la fase recente del parossismo consumista ha portato a questa rottura. Eh abbiamo citato le accedere di Taranto, la Val d'Agri eccetera. Gli scenari di transizione che propone il Millennium Ecosystem eh eh vanno da quello attuale che la global orchestration se volete chiamiamola globalizzazione in maniera più semplice e che eh finisce nel tecnogarden. Che cosa significano queste cose? La global orchestration raffigura una società globalizzata globalmente connessa attraverso standards e modelli generali nella quale leggo dal Millennium Ecosystem i problemi ecosistemici globali sono gestiti da istituzioni sovranazionali attraverso un approccio di tipo reattivo. Pensiamo al ai cambiamenti climatici no? E a tante altre questioni ambientali. Quindi il limite di questo approccio sta nella difficoltà ad affrontare crisi che evolvono in modo rapido e da velocità crescente e che lo rendono vulnerabile rispetto a sorprese emergenti relative a contingenze eh politiche internazionali. C'è a parte la tragedia della guerra c'è sempre un problema se ci fate caso che nelle cop blocca il documento meraviglioso con il quale si entra e si esce con qualcosa che in ventisette anni è servito a ben poco al punto che dopo ventisette anni le eh concentrazioni di CO2 che è l'unica cosa che conta quando si fanno queste cose continuano ad aumentare e siamo negli scenari peggiori eh eh in cui l'aumento è già eh intorno a un grado e un grado e due quindi il l'obiettivo di un grado e mezzo è praticamente difficilissimo da raggiungere è quasi impossibile e siamo in uno scenario che va oltre i due gradi e mezzo siamo in un'Italia che è un hotspot nel Mediterraneo in cui questi scenari possono essere ancora peggiori quindi diciamo chiaramente che la globalizzazione la global orchestration non funziona la soluzione tecnologica per tutti eh ne abbiamo vissute tante in Italia no dal dal carbone pulito il nucleare pulito adesso che continuano a riproporci queste soluzioni tecnologiche di livello internazionale non funzionano e allora qual è l'alternativa che propone il millennium ecosystem è il mosaico lo sviluppo a mosaico regionale adattativo che è un sistema proattivo basato sulla eh sulle specifiche situazioni regionali eh quindi si sta affermando nelle popolazioni eh interessate ma anche in in alcune istituzioni internazionali e soprattutto nel mondo ambientalista questa come la chiave della transizione ecologica in alternativa al tecnogarden e qui si inserisce il discorso del bioregionalismo io eh esamino cosa ho sul mio territorio qual è la cultura qual è la disponibilità e in base a questo modello eh uno sviluppo eh e quindi veniamo alle fonti energetiche per il mezzogiorno abbiamo detto che il petrolio per uscire da questa eh crisi climatica è qualcosa che va a morire le quantità eh sono eh relativamente modeste ma sono da un punto di vista energetico interessanti ma è qualcosa che non ha nessuna prospettiva futura e soprattutto sta distruggendo eh eh adesso porta una quantità enorme di royalties fiumi di denaro sono promesse alla val d'agri alla basificata eh fiumi di denaro che hanno un prezzo che è la distruzione dell'ambiente naturale sul quale eh penso al parco della val d'agri sul quale eh negli anni le popolazioni locali stavano realizzando un loro sviluppo stabile attraverso l'agricoltura biologica eh le eh attività di agriturismo eccetera quindi si ritroveranno eh fra un certo numero di anni anche un po' in virtù del del eh degli obiettivi dei cambiamenti climatici e del face out dal petrolio si ritroveranno con un territorio devastato e già oggi lo è estremamente inquinato e già oggi i livelli di inquinamento in certe zone della val d'agri sono incredibili eh e eh senza neanche quella prospettiva futura stabile che era legata alla realtà del loro territorio e questo è un esempio eh classico di che significa eh eh bioregionalismo ma io vorrei aggiungere anche appunto lasciamo perdere il discorso del del gasotto dalla dalla dall'Algeria che mi sembra un qualcosa non non ne capisco il senso perché se in questo modo si vuole al di là del dell'impatto che poi lascia ben poco di sviluppo al mezzogiorno che viene soltanto attraversato da questa infrastruttura perché l'idea è di eh eh portare il metano nel in Europa attraverso l'Italia. Ecco intanto non capisco in che modo possa essere vantaggioso spostare la provi sbilanciare l'approvvigionamento di metano da una zona da un'area eh eh politicamente instabile che stiamo vivendo in cui stiamo vivendo la tragedia di questa guerra a un'altra area politicamente forse ancora più instabile del del nord del Mediterraneo. Quindi veramente da un punto di vista logico è una cosa incomprensibile e il fatto che questo possa portare sviluppo per il mezzogiorno è qualcosa di che trovo eh quasi paradossale insomma è un attraversamento ma poi chi garantisce all'Italia che gli altri paesi europei che seguono che si avviano in maniera ancora molto confusa se volete molto contraddittoria però sono contento di aver saputo che la la Germania ha chiuso eh definitivamente le sue ultime centrali nucleari eh e un'Europa che si avvia verso altre prospettive che garanzia c'è che utilizzerà questo eh questo metano per gli anni eh di della vita utile che possa avere un senso eh di tutto questo flusso di attraverso questo gasdotto. Quindi si rischia di creare l'ennesima opera inutile che se ci riuscissero a farla non porterà a sviluppo e che ha una prospettiva di morire prima ancora forse che è arrivata alla metà della sua vita utile quando eh eh l'Italia e il resto d'Europa si troverà a rispettare gli obiettivi al 2030 e al 2050 sui cambiamenti climatici. Ecco eh ma c'è allora c'è da chiedersi abbiamo delle alternative perché il discorso che viene fatto è sempre questo no? Si dice vabbè rinunciamo al petrolio dei val d'agri e rinunciamo al metano eh dell'adriatico, rinunciamo al al gasdotto eh ma non ci sono quali sono le alternative, le fonti rinnovabili sono sono discontinue e qui c'è il discorso del modello eh e non so quanti sanno, ne abbiamo parlato forse qualche volta che eh eh l'Italia ha una quantità soprattutto localizzata nel mezzogiorno d'Italia una quantità eh un potenziale geotermico incredibile incredibile e vi spiego da dove nasce è sessanta c'è il calcolo del potenziale è un numero impensabile sessantacinque volte il fabbisogno energetico nazionale è una cosa da non credere ma è così perché non sto parlando dei giacimenti di vapore tipo toscana che pure esistono e se li venissero sfruttati tutti eh sarebbe tre volte e mezzo al fabbisogno energetico nazionale sto parlando del dei quelli creano problemi di localizzazione di impatto perché eh il vapore se non viene ben trattato insomma può creare dei problemi ci sono i giacimenti secchi che un tempo erano considerati eh poco significativi e poco appetibili che sono tra i eh i giacimenti non ho capito i giacimenti di rocce calde secche senza acqua e senza vapore e che si trovano a tre mila tra i tre mila e cinquemila metri di profondità quindi un gioco per per esempio per il know how di Eni di una Eni se si volesse dedicare cosa mi sembra assai improbabile a a a iniziative di questo genere ed è presente in tutta la fascia penninica questa è la cosa straordinaria che è una quantità enorme quindi non significa che devo devastare la fascia penninica per fare queste centrale che poi sono piccole perché come funzionano e il l'acqua si manda in si crea una eh eh diciamo una frattura una fessurazione no frattura sembra una parola pericolosa no una una piccolo diciamo eh dispersione di acqua una sorta di di laghetto di acqua in profondità iniettando acqua in pressione una volta realizzato questo tutto avviene a circuito a due circuito doppio circuito chiuso l'acqua viene pompata in profondità risale calda e viene ripompata in profondità dove si riscalda indefinitamente perché il calore geotermico è eterno rinnovabile e in questo calore viene messo a contatto di un fluido che può funzionare perché sono giacimenti di temperatura modesta per questo non hanno mai suscitato interesse tra sotto i cento gradi tra ottanta e novanta gradi e ci sono ormai macchine consolidate che sono i cicli ranking che usano dei fluidi eh termici che a quelle temperature espandono e operano meglio del vapore che a circuito chiuso attivano una turbina ed ecco l'elettricità a quel punto io non mi devo trasportare il calore come quando ho i giacimenti di calore ma l'elettricità la posso trasportare con una rete che va a destinazione nelle luoghi di utenza questo sarebbe la integrazione il complemento e il volano delle comunità energetiche che è la prospettiva eh più bella socialmente ecologicamente ed economicamente che ci possa essere che adesso è tollerata diciamo così se vedete la la le regole le norme che adesso sono state finalmente approvate nonostante tutte le difficoltà di allaccio eccetera è contingentata fino a perché non cambia il modello energetico quindi mi devo fare i conti con una rete di trasporto di alta tensione basata sulle fonti eh fossili eh quindi eh la discontinuità che si crea eh impedisce l'allacciamento di fonti discontinue eh oltre una certa quantità la comunità energetica perché viene tollerata perché eh eh consentendo eh eh la eh produzione collettiva e quindi la possibilità di equilibrare nello stesso punto di immissione in rete i consumi e e la produzione dà più spazio alle fonti rinnovabili entro certi limiti perché ogni punto può tollerare eh fino a una certa quantità quindi è un escamotage eh nasce a mio avviso non da un da una conversione ecologica dei degli ultimi governi ma dal fatto che consente di avvicinare più facilmente gli obiettivi di utilizzo delle fonti rinnovabili firmati in in Europa gli obiettivi europei eh ma cosa c'entra la geotermia con questo perché se io ho una fonte stabile non ho bisogno di impianti di accumulo del calore eccetera eccetera perché la discontinuità per me resta la priorità alla produzione locale perché è il modo più efficiente di utilizzare l'energia la discontinuità viene come può essere compensata tranquillamente senza batterie senza eh disturbare la rete nazionale attraverso appunto l'uso di una ponte continua come la geotermia che è così abbondante che in questa abbondanza potrebbe anche ricavarne eh quanto è sufficiente per esempio per produrre idrogeno e eh e da utilizzare nelle acciaieri di Taranto perché no o nelle industrie energivore quindi viene a mettere totalmente fuori gioco eh le energie fossili e l'energia nucleare il il mio sogno che vi propongo è un'integrazione tra fonti rinnovabili stabili e e fonti rinnovabili discontinue le seconde che creano eh una socialità importante anche nella cassa comune da da utilizzare per progetti di tipo sociale eh perché il meccanismo è questo le compensazioni in una certa parte in una certa quantità eh sono destinate infatti si chiamano comunità energetiche rinnovabili e sociali una certa e una certa parte vengono eh destinate ad attività di miglioramento della qualità della vita o di supporto a categorie svantaggiate eccetera e quindi questo è il il modello che che mi sento di eh di proporre per lo sviluppo del mezzogiorno e quindi non ci sono più alibi che l'energia non c'è per il mezzogiorno e bisogna eh e bisogna accettare qualsiasi cosa dal petrolio al metano qualsiasi cosa che è sempre frutto di una chiamiamola con la con la parola più chiara colonizzazione perché eh il mezzogiorno eh appunto dicevo un'industrializzazione che viene e va decide e quando installarsi quando andarsene a perché eh comunque viene eh a sfruttare delle situazioni manodopera disponibile a a a a a basso costo rispetto ad altre ad altre situazioni eh eh forme ricattatorie perché in queste questo tipo di industrializzazione consente di dire a alla all'impresa eh io o sto a queste condizioni o me ne vado da un'altra parte dopo domani chiudo e vado a fare la stessa cosa in un'altra parte del mondo perché è indifferente dove vengono fatte queste cose non è che le acciaierie stanno a Taranto perché a Taranto ci sono ci sta ci sta qualcosa di particolare ci sono cose che ci possono stare in qualsiasi altro posto del mondo ma se io riesco ad alimentarlo con ad alimentarle con una fonte rinnovabile ho risolto anche quello odioso eh ricatto tra salute e lavoro che si sta perpetrando eh spaccando anche la popolazione in quelle situazioni e quindi penso che veramente la la le comunità energetiche possono diventare il catalizzatore della transizione ecologica e ricuscire quello strappo d'ambiente territorio e sviluppo eh eh creando uno sviluppo quindi stabile sostenibile e penso che veramente è stato sottovalutato il potenziale eh diciamo una parola che ci piace rivoluzionario di un'energia controllata democraticamente dai cittadini pensavano di fare qualche come si dice dalle parti dei miei generi che cusarella che non disturbava che tutto sommato faceva comodo anche a chi gestiva le megacentrali e invece si trovano nelle mani qualcosa che gli può scoppiare tra le mani diventare veramente il punto di svolta che può cambiare potenzialmente l'intero modello energetico e finalmente mettere eh fuori fuori eh uso il phase out delle fonti fossili io questo è il mio messaggio se volete possiamo anche scendere in particolari di altre situazioni oppure rispondere a richieste a domande intanto c'è c'è un' istruzione a parlare da parte di Roberto Musacchio e così magari diventa un' interlocuzione. Bene. Grazie. Se no vi raccontavo tutta la storia delle seterie di San Neus e poi cambiamo oggetto di questo nostro incontro. Hai che con con te passerei le ore, le giornate come c'è capitano nel passato. Insomma io penso che dobbiamo sviluppare in particolare questa eh tua proposta delle comunità energetiche però vi proponevo una riflessione che mi è venuta in mente eh adesso eh sulla ragione anche di questo incontro che è voluto eh contemporaneamente ehm da quelli che si battono contro l'autonomia differenziata e quelli che si battono per eh le comunità energetiche no? E e quindi che nessuno c'è tra queste cose e alla fine chi prevale tra le due Andrea come dicevi te. Allora volevo ricordare a tutti noi eh a chi soprattutto a qualche anno di più come mezzo eh eh un'esperienza del passato in cui secondo me questo scontro c'è stato e si è avviato e ha determinato anche degli esiti successivi che in questo momento si vanno concretizzando sempre di più. Non parlo di energia Andrea parlo di acqua ma io sono stato diciamo nel mio piccolo un protagonista a rimortio perché poi il protagonista principale era eh Giorgio Nebbia e della approvazione di di quella che secondo me era l'unica legge approvata in Italia in cui le istituzioni venivano ripensate su base ambientale. Per chi non se ricorda la legge sulla difesa del suolo sembra un titolo un po' strano no? Perché la difesa dalle alluvioni eccetera eccetera. In realtà la centottantatre si chiamava eh era una legge eh che ripensava complessivamente eh l'assetto del territorio su base ambientale e democratica. Cioè considerava l'acqua eh non una merce ma eh qualcosa che eh stava dentro corpi vivi in quel caso i fiumi suddivideva il territorio italiano eh sulla base eh dei grandi fiumi e poi eh dei piani eh dei fiumi regionali e eh costruiva comunità di gestione di quest'acqua eh per eh favorirne eh eh la riproduzione ambientale in eh l'ottimizzazione del rapporto con il territorio stesso e quindi per esempio eh prevedeva che questi piani che poi devono essere elaborati dalle comunità di bacino fossero eh sovraordinanti rispetto ai piani regolatori. Cioè in un paese dove si è costruito ovunque e e dove non c'è mai stata neanche una legge sul regime dei suoli ricordiamoci che la legge sul regime dei suoli a proposito di leggi ambientali eh fu eh eh a zoppata da una certezza della Corte Costituzionale che non è mai stata recuperata come come danno ma che aveva le sue ragioni nel nella compromissione di questa legge. Cioè in Italia è dagli anni sessanta che si provava a fare una una legge sul regime dei suoli e si sono rischiati colpe per non farla. Questa cosa eh metteva eh diciamo al centro un tema di straordinaria eh eh avanguardia che era quello che il territorio andava gestito democraticamente in senso ambientale e con eh eh non si può dire relazioni e ambiti che venivano definiti precisamente dall'ambiente e dalle e dalla democrazia e su questo si costruiva anche l'economia. Eh quindi eh ancora di più che qualche l'acqua bene comune. L'acqua che vive questo l'acqua bene. Questa legge fu affossata e fu affossata nel nel modo più eh come si può dire ehm eh attraverso una pratica assolutamente eh ambigua e e anche camuffata che allora sembrava progressiva. Lo dico perché anche allora poi ci furono responsabilità dentro eh quello che poi diventerà il centro-sinistra. Ma subentra la cosiddetta legge Galli eh che eh trasforma invece la gestione dell'acqua per bacini tecnologici legati agli all'acquedrettizzazione. Allora non era semplice diciamo chiarire capire che cosa succedeva ma al bacino naturale eh fluviale si sostituiva il bacino tecnologico e il bacino tecnologico parliamoci chiaro fu l'anticamera eh della trasformazione di quelli che gestivano l'acqua in delle spa e nella mercificazione dell'acqua. Il bacino non era costruito per nulla sulla base di quello che era eh diciamo eh l'elemento naturale del fiume ma al contrario sulla base di quale era quella che originariamente era una società per che era un'azienda eh comunale che poi si andava trasformando in spa e in spa sempre più grandi fino a quello che abbiamo conosciuto. Cioè l'acqua in mano alle grandi multinazionali tema assolutamente eh cogente in questa maniera eh che è passato attraverso una riforma istituzionale. Allora io questo ne so vorrei cogliere anche oggi perché questo che ci veniva proposto da Marina Andrea. Cioè l'autonomia differenziata non c'entra niente con la regionalizzazione e con le comunità energetiche ma è l'esatto contrario. È l'apertura dei territori alla mercificazione integrale di qualsiasi elemento che va dai servizi eh allo sfruttamento del lavoro anche allo sfruttamento. Tant'è vero che le competenze eh quelle per la eh la straordinarietà delle cosiddette grande opere vanno ancora più in capo al governo centrale anzi agli esecutivi anzi prescindono addirittura da atti parlamentari e contemporaneamente quella cosa che chiama regione che diventa sempre di più un piccolo consiglio di amministrazione della privatizzazione integrale dei territori e dei loro cittadini. Io credo che non c'è paese ho provato a scriverlo a dirlo. Non c'è paese d'Europa dove ci sono consigli regionali che hanno funzione legislativa fatti da venti persone elette a traino di un presidente. c'è la famosa Ungheria c'ha consigli provinciali di quaranta cinquanta persone. Noi siamo riusciti a far gestire una regione da un tavolo di pizzeria. Venti persone che devono alla loro elezione adesso aver appoggiato un presidente o una. Con l'autonomia differenziata adesso questi diventano territori alla merce di quello che succede che è questo strano incrocio tra le questioni eh diciamo di mercato le questioni geopolitiche e quindi se ti serve di fare eh lab perché devi stabilire dei rapporti eh che fanno finta che esci dal rapporto dominante con con il metano russo fai quello se ti serve di fare quello che hai fatto negli anni passati eh Andrea tu sei bene. C'è un'altra genialità che era quella del C6 degli incentivi dati ai produttori industriali e non solo a tutti quelli che dicevano che eh eh producevano fonti assimilate le aree rinnovabili siamo riusciti a trasferire centinaia di migliaia di migliardi delle vecchie lire a produzioni energetiche sporche che sostituivano peraltro le stesse produzioni eh industriali. Quanti degli impianti industriali tu prima ne parlavi sono diventati eh diciamo la foglia di figo per la produzione per insediamenti energetici che fanno dell'Italia e del paese che ha la più alta riserva di produzione elettrica installata del mondo capito del mondo tutta sovvenzionata dal C6. Queste premesse ampiamente gestite sia dal centrodestra che dal centrosinistra purtroppo e adesso eh portano all' approdo di questa cosa dell'autonomia differenziata come diceva Marina e e che capacità di resistenza possono avere comunità energetiche che sono ancora da insediare peraltro rispetto a questo. Questo è naturalmente il punto io credo che noi dobbiamo riuscire eh ad affrontare anche il senso di questo appuntamento cioè come eh cerchiamo di avere una visione complessiva di come si muove l'avversario perché tale è e e di che cosa dobbiamo mettere insieme noi eh per cercare di sostenerlo. Tu hai detto moltissime cose utilissime da questo punto di vista. Io penso che possiamo lavorare anche su comunità territoriali del lavoro. Mi hanno proposto per esempio eh compagni che conosco diciamo una sorta di comunità energetica anche a livello europeo sembra strano perché è fuori dalla territorializzazione ma per esempio dei produttori di serurgico proprio per lavorare invece sull'idrogeno pulito eccetera eccetera come a dire che noi siamo appunto uno spazio locale e globale. Ecco io penso che eh questo incontro come l'avete preparato molto bene grazie a Franco Russo e a Marina Marino eccetera eccetera possa andare in questa direzione i materiali che avete già fornito voi due e però appunto Andrea ti proponevo eh di mictare questa cosa eh per capire come l'ottimismo della volontà che tu hai messo in campo come sempre perché sei un militante straordinario e poi fai i conti appunto non con quello che è un pessimismo ma è quella che è la realtà dei fatti e come rispondiamo naturalmente sul tema della pace non devo dirlo a te che sei maestro e impegnato quotidianamente ma eh io credo nella nella forza delle cose nella forza della 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 verità che alla fine viene a galla che è la cosa più conveniente io non parlo quando parlo di eh eh approccio eh regionale a mosaico regionale non mi riferisco all'istituzione regione mi riferisco proprio a quello che dici tu alla comunità locale che può essere un bacino può essere un'area che ha un un una unità territoriale che ha delle caratteristiche in comune o degli interessi comuni questa è la democrazia in cui abbiamo sempre creduto non la la pseudo democrazia in cui la gente non decide più nulla non decide più nulla perché arriva il quello che hai detto tu insomma arriva la 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 quella che noi chiamavamo semplicemente globalizzazione eh si chiama global orchestration ma è quella lì che tutto si decide ad alti livelli dove la gente non sa nemmeno di che cosa si parla a quegli alti livelli e si ritrova poi queste cose sul suo territorio quindi penso che veramente sia eh una rivoluzione da che eh va a minare eh con la forza del diciamo della sua eh consistenza eh perché quando parliamo dei numeri che in parte vi ho dato va a minare a minacciare il modello invece eh esistente cioè l'interesse sull'acqua eh io ho ha lasciato eh due anni fa circa un anno e mezzo fa il ministero dell'ambiente dove eh ho non si sente. Mi sentite? No adesso sì. Ecco sì a un certo punto non ho visto più niente. Cioè ho lasciato il ministero dell'ambiente perché coordina ero coordinatore scientifico come esterno come consulente esterno delle attività sull'adattamento ai cambiamenti climatici. Va bene ve la faccio breve eh avevo proposto proprio delle iniziative sull'acqua. Adesso si sta gestendo come secondo quello che dicevamo prima in maniera reattiva i eh nelle diciamo eh anomalie meteorologiche dettate dal dei cambiamenti climatici c'è eh un periodo siccitoso si perdono i raccolti emergenza c'è il danno bisogna pagare i contributi giustamente perché è stato danneggiato ma non c'è un'azione proattiva c'è una eh comunità che ragiona nel cambiamento delle pratiche eh agri delle tecniche agricole nel miglioramento nel nel nella conservazione dell'acqua eh nelle penso nelle eh nelle regioni del nord che eh diciamo soffrono della dello scioglimento dei ghiacciai della poca innevamento c'è una prospettiva tragica proprio della di 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 discontinuità della disponibilità di acqua e nasce pure questa contesa tra industria che ha bisogno dell'acqua agricoltura che ha bisogno dell'acqua eccetera ma l'acqua ce n'è in abbondanza quello che è cambiato nel nel è il modello di gestione che è sbagliato perché quello che è cambiato in realtà con i cambiamenti climatici è la distribuzione in arco dell'anno non c'è più un effetto naturale di conservazione di distribuzione ma eh questo qui in questo caso la tecnologia può aiutare non solo la tecnologia ma anche anche il modello e le attività che si svolgono sul territorio l'agricoltura eh più consapevole magari si possono spostare i le date di semina si si può migliorare la qualità organica e pedologica dei terreni in maniera da mantenere eh più a lungo eh l'umidità addirittura ci sono tecniche di gestione delle risaie perché uno pensa l'acqua soprattutto nel nel nord nel nord Italia alle risaie no senza allagamento mantenendo la stessa produttività eh ci ci sono eh in India ci sono tantissimi esempi di questo genere ma sono anche esempi poi praticati ormai in altre parti del mondo che possono essere reiterate quindi la non c'è cambiamento in questo paese in questa società perché c'è un interesse consolidato a non cambiare e questa quello che ha ha detto Roberto rispetto all'acqua è la stessa cosa che dicevamo rispetto all'energia creare comunità di interesse collettivo che decidono le le loro sorti e si staccano dalla rete nazionale grazie Andrea so se ci sono altri Alfio va bene prego Virginia e poi grazie 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 intanto ho trovato questo questo intervento interessante e stimolante eh io mi sono occupata per nei cinque anni scorsi proprio di energia ehm in commissione ambiente al senato e e poi tra l'altro sono uno cianobre per cui soprattutto per quanto riguardo al mare sono assolutamente d'accordo sul fatto che comunque noi dovremmo puntare molto sull'energia del mare e nell'ambito del PNRR è vero che ci sono soldi per il sud ma per quanto riguarda appunto l'energia e proprio lo sviluppo appunto di un percorso consapevole di eh diciamo di eh produzione di energia rinnovabile dalle fonti marine e eventualmente anche vabbè nel mio caso io poi su da geotermia ho qualche dubbio se parliamo di geotermia bassa entalpia come mi sembra di capire che questa poi non mi occupo di geotermia però se parliamo di geotermia bassa entalpia sicuramente assolutamente valido proprio come progetto e come proposta e sicuramente eh proprio per per dare continuità a quel all'energia rinnovabile delle comunità energetiche che chiaramente ha una discontinuità di base di fondo. È vero anche che c'è l'idrogeno verde che eh poi potrebbe diciamo sostituire nel tempo le batterie però di fatto poi l'idrogeno verde lo dobbiamo produrre e quindi abbiamo bisogno ancora di energie rinnovabili. Quindi io penso che sicuramente il sud è lab per energetico per eccellenza. Sono assolutamente d'accordo eh che eh si debba diciamo eh eh proprio nell'ambito anche dell'autonomia differenziata. Io sono d'accordo anzi io ho anche ascoltato eh la presentazione del rapporto Svimez e quindi trovo assolutamente eh importante eh quel rapporto proprio perché c'è concentra l'attenzione sul sud che però appunto non deve essere predato come è stato fino a questo momento eh e soprattutto sul mare e sulle coste. Quindi hm diciamo come hub energetico ma anche come ponte per l'economia e per i rapporti con il Mediterraneo. Quindi eh dovrebbe appunto bisognerebbe fare questo passo verso eh diciamo una nuova strutturazione della eh a parte perché poi cambia proprio la geopolitica no? Delle dell'energia. Cioè perché è chiaro che se noi abbiamo un'energia che proviene dalle fonti fossili c'abbiamo un tipo di geopolitica. Poi cambia la geografia laddove per esempio devi andarti a cercare delle altre fonti e quindi le fonti delle rinnovabili, le fonti rinnovabili e di conseguenza è chiaro che il sud può diventare fare da traino, da traino per l'Europa e però purtroppo anche come ci eh diciamo ehm gli esempi che portavano che che avevano citato eh diciamo i mh le persone eh che i relatori del del rapporto Ginex purtroppo molte cose che devono essere fatte a sud ehm le hanno poi fatte al nord quindi noi sicuramente dobbiamo puntare su un tipo di energia che sia diciamo autonomo che si che si che sia proprio basato sul giornalismo e questo è quello che ho sempre detto ho sempre sostenuto perché questo poi ci dà una forza enorme perché per noi l'energia del mare o comunque la geotermia sono fonti eh gratuite e quindi eh diciamo possono essere eh appunto non le esporti da lì quindi questo tipo eh diciamo aiutare a sviluppare un sistema indipendente di energia eh quindi scollegato dalla predazione poi degli altri paesi soprattutto quelli in guerra soprattutto quelli dove c'è un regime dittatoriale e e quindi secondo me eh io penso e cioè io ho proprio lavorato in questi cinque anni quattro anni e mezzo di eh di attività parlamentare mi sono proprio hm diciamo dedicata assolutamente a questa parte soprattutto al PNRR l'ho studiato benissimo cioè soprattutto la tassonomia quindi la finanza etica che poi purtroppo la grande delusione che ha è stato insomma inserito anche eh nucleare e comunque il gas e soprattutto eh ultimamente hanno anche eh diciamo l'Europa ha anche accettato di inserire eh per l'abbattimento della CO2 i pozzi eh i sauriti eh del del diciamo delle fonte fossili per delle fonti fossili per la cattura della CO2 e quindi ha rinunciato in qualche maniera all'abbattimento della CO2 riducendo le emissioni in atmosfera ma semplicemente catturandole quindi continuando a produrre eh a di ritmo corsennato e alla cementificazione, a industrializzazione, la produzione assolutamente insostenibile per il nostro pianeta. Quindi voglio dire ci sono eh c'è veramente tanto da fare su questo io su questo mh aspetto eh appunto quello dell'energia e l'energia del sud e soprattutto la pianificazione anche no? Perché altrimenti questo far west che eh diciamo che sta devastando che ha devastato il sud eh lo eh diventerà un far west anche per le fonti rinnovabili perché io prima forse all'inizio di questo incontro ho sentito eh però forse era un po' distratta ho sentito parlare di eh di di riduzione delle autorizzazioni quindi di semplificazioni. Le semplificazioni fino ad un certo punto secondo me appunto se c'è un modello di sviluppo da seguire o da proporre perché è chiaro che quello che stanno facendo un modello di sviluppo insostenibile che insomma va eh perlomeno diciamo mh migliorato e quindi riorientato se vogliamo però su questo tema quello del dello sviluppo del modello di sviluppo energetico e del modello di sviluppo che comunque tuteli l'ambiente è ovvio che secondo me noi come gruppo potremmo effettivamente ehm sederci a tavolino e capire esattamente come eh come proporlo perché insomma le variabili sono tante e bisogna anche eh capire dove eh diciamo eh evitare insomma tranelli ecco ehm e quindi parla partendo appunto da una pianificazione da una eh uno studio che già ci sono appunto ci sono studi che ci possono dire esattamente come cosa sfruttare anche piccole eh diciamo fonti energetiche locali eh e e quindi ehm e quindi insomma però cercando appunto di affinché queste siano sostenibili perché l'idea poi di arrivare a bruciare le foreste e poi a non averle più anche quello è sbagliato per cui eh diciamo dovremmo mettere insieme eh questi elementi per costruire un quadro che sia sicuramente interessante dal punto di vista politico perché bisogna sempre trovare soprattutto dall'opposizione delle proposte che poi eh diciamo vadano un po' contro quello che dice il governo e per noi è facilissimo perché voglio dire il governo Meloni è davvero insomma sta sta labrando tutto ma insomma lo sapevo già perché ci ho passato cinque anni anche con le autonomie differenziate devo dire cioè l'autonomia diciamo in affari regionali anche lì è stato un macello insomma e con ad esempio anche con l'agricoltura ecco quindi io direi che sicuramente su questo si può mh diciamo lavorare eh penso che questo sia ben legato all'autonomia differenziata e quindi invece all'unità dell'Italia e come sud eh che possa diventare da traino per il Mediterraneo del Mediterraneo per l'Europa insomma per un'Europa eh c'è eh euro-mediterranea ma ecco voglio dire non voglio eh fare uno insomma eh però mi sembra giusto appunto fare da ponte. Grazie. Prima di dare la passata a Andrea volevo fare il giro continuando. C'è Franco che si era prenotato poi ci sei tu e poi ridiamo la parola ad Andrea posso? Allora io volevo brevemente eh porre l'accendo su un elemento che normalmente viene trascurato anche diciamo nell'ambito della sinistra. Io lavoro da cinquant'anni con i contadini siciliani sono uno dei promotori dell'agricoltura biologica e abbiamo costituito diciamo aziende cooperative biologiche. Oggi quello a cui si assiste è che la metà delle aziende eh siciliane sono desertificate perché sono state abbandonate. Voi capite bene che cosa questo significa un terreno abbandonato. Significa distruzione della produzione, significa distruzione della biodiversità e in termini energetici significa desertificazione perché le erbe e le piante creano umidità e dall'umidità nasce la pioggia. Noi oggi siamo in una situazione tragica perché ripeto abbiamo metà del territorio siciliano desertificato. Abbiamo creato una legge alla sinistra di agroecologia che è stata approvata all'unanimità ma che l'attuale assessore eh di Forza Italia eh si eh non vuole eh emettere i decreti attuativi. Quindi diciamo ecco volevo semplicemente porre l'accento su questo che al di là delle grandi foreste che si distruggono abbiamo una distruzione diciamo della degli alberi, delle erbe, degli ortaggi da noi e questo crea una desertificazione che è rovinosa in termini di produzione, di occupazione e di reddito in termini energetici. Grazie. Marina dopo un minuto mi dai la parola dopo dopo Franco. Franco. Dopo Franco. Dopo Franco. C'è anche un minuto. Sì. Sì grazie mille. Intanto vorrei ringraziare sia Marina che Andrea per per lo sforzo diciamo di elaborazione e di proposte fatte e anche diciamo la partecipazione ora non non sono numeri di centinaia di persone insomma rispetto alle nostre nostre medie si è visto che questo tema ha sollevato abbastanza interesse quindi la prima eh diciamo preoccupazione che avrei anche da cui dicendo una proposta è se noi riuscissimo a far vivere questo questo momento cioè se noi riuscissimo a solidificare questa iniziativa che oggi ha ha visto appunto avviatasi con la relazione di Andrea perché mi pare che le presenze che che ci sono sono molteplici e quindi mi pare che abbia testato un certo interesse e soprattutto le tematiche possono essere diciamo di lungo possono essere di lungo periodo che vanno che aiutano non solo la battaglia contro l'autonomia differenziata ma che poi possono effettivamente suscitare delle iniziative autonome di contrasto anche al piano alle iniziative al piano energetico che i non solo questo governo ma anche i precedenti hanno portato portato avanti fatta questa premessa che però ripeto mi piacerebbe soprattutto immagino nel dico la parte della presidenza di Marina e di e di Roberto Morea se poi riuscissimo a individuare le modalità con cui mantenere i rapporti con le persone che stasera ehm hanno partecipato a questo nostro incontro invece a livello di sostanza vorrei dire questo io dal dall'introduzione dalla relazione di Andrea ho capito questo e anche lo sottolineava Marina prima che nella nostra battaglia contro l'autonomia differenziata e nella nostra mobilizzazione del sud dobbiamo batterci contro una nuova forma di colonizzazione a cui il sud viene ridotto ehm questo sembrerà una cosa scontata perché eh anch'io sono sempre stato convinto leggendo appunto i documenti sullo sviluppo energetico del 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 mezzogiorno che vedendo anche proprio la geografia dei gas dotti si vede perfettamente che i gas dotti dal sud vanno a nord e quindi è un'energia che passa a ehm con nel sud ma non si ferma nel sud. La proposta che ci ha fatto stasera Andrea è quella invece di ehm individuare delle fonti energetiche che stanno nel sud e che servono il sud e non solo il sud perché appunto quell'inzora più potrebbe essere collegata alla rete la rete elettrica ehm nazionale. Ehm legata a questo quindi lotta battaglia denuncia della colonizzazione del sud e la seconda cosa anche se oggi non è facilissimo immediatamente tradurla in slogan però potrebbe diventare marino oggetto della 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 nostra diciamo controinformazione è il tema del del bioregionalismo proprio perché il bioregionalismo si lega a fonti non diciamo così non combatte il decentramento regionalistico non combatte il decentramento locale al contrario insiste sul sul sulle istanze sulle gli interessi e sulle vocazioni diciamo così del territorio per esaltare le forme di 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 democrazia insomma il bioregionalismo peraltro è in contrasto con il regionalismo amministrativo che è stato determinato perché le regioni non sono nate diciamo come sulla base di chiamiamo le vocazioni territoriali per per intenderci ma invece sulla base di eredità storico burocratiche ehm per cui anche la battaglia sul bioregionalismo io ricordo i nomi di lucio gambi e del geografo lucio gambi nebbia eh giovenale che potrebbero essere riprese appunto per per dimostrare che noi che ci battiamo contro l'autonomia differenziata vogliamo riportare alla luce vogliamo far rivivere o forse far vivere per la prima volta il il bioregionalismo la terza questione che volevo sollevare era questa ehm dice Andrea ehm se noi non perseguiamo ehm se noi continuiamo a perseguire ehm diciamo l'energia basata sulle fonti fossili non raggiungeremo gli obiettivi che l'Unione Europea si è data negli anni trenta e per gli anni duemila e trenta e duemila e cinquanta. Io mi chiedo e ti chiedo Andrea ma secondo te veramente l'Unione Europea vuol raggiungere questi obiettivi decarbonizzando oppure diciamo così l'obiettivo di diciamo di decarbonizzazione è un un ballon de sé ehm dietro cui nasconde eh diciamo i processi di riorganizzazione della produzione industriale soprattutto in primo luogo senza appunto cambiare modello energetico perché questa è perché è vero che l'Europa spinge 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 ma poi l'Europa spinge spinge anche sul 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 rinnovamento sul sul ritrovare sul andare a cercare fonti fossili soprattutto del gas e tutto anche il cosiddetto piano Mattei del del dell'attuale governo che mira appunto a utilizzare l'Africa ma non per le fonti rinnovabili possibili in Africa ma per le fonti fossili tradizionali. La strategia dell'ENI non mi pare innovativa rispetto appunto al al modello energetico perché va in Africa per sfruttare il il diciamo le fonti tradizionali di di energia che non saranno più quelle del petrolio ma saranno quelle del del gas. E l'ultima mia domanda che è la terza. Tu Andrea hai parlato di geotermia io però ho letto ripetutamente diciamo del dei contrasti che esistono fra agricoltori e coloro che vogliono ristaurare e installare il fotovoltaico. Potresti essere così cortese da chiarirmi bene queste contraddizioni che esistono fra agricoltura e installazione del fotovoltaico? Grazie mille. Allora io adesso sono prenotati Alessandro Stassellati e Giovanni Russo Spena. Magari Andrea comincia con le domande di Franco e quelle precedenti altrimenti si accumulano e seguiamo più difficilmente. Magari do risposte più secche perché è bello che ci siano tante domande. Allora è stato detto non mi ricordo il nome. Prima di Alfio la persona che interessa. Da Virginia. Da Virginia. Ecco Virginia ha detto giustamente le fonti rinnovabili hanno costo zero. Quello che costa è la tecnologia. L'Italia pensando al fotovoltaico ha una marea di brevetti sul fotovoltaico. Questo significa che il prezzo del fotovoltaico non può che diminuire, non può aumentare perché il sole non è che costerà di più. Però la tecnologia può migliorare e quindi può abbassarsi. L'Italia ha una marea di brevetti nelle nostre università e questo significa sviluppare il fotovoltaico nell'area del paese in cui c'è il maggior soleggiamento quindi ha le maggiori potenzialità. Dovrebbe significare anche instaurare le industrie che applicano questa ricerca che non questa ricerca non vada dispersa e svenduta qui e lì per il mondo. Perché non realizzare contemporaneamente anche l'industria che fa i pannelli con le nuove tecnologie con i nuovi materiali sviluppati dalla ricerca italiana. Ecco così facciamo contenta pure la Meloni perché ho detto due volte italiana, le basta che si dice italiana e contento. Va bene. E quindi ecco questo è un punto che volevo dire. Poi c'è anche l'eolico offshore. Dico ma l'Eni ha tutto il know-how, va a scavare gas, petrolio, dalle piattaforme in mezzo mondo ma perché nessun governo dà un indirizzo strategico a lei di cominciarsi a occupare non solo nella pubblicità perché magari mette qualche pannellino per alimentare le piattaforme petrolifere ma utilizzare il suo know-how sulle fonti rinnovabili di Amine. Ecco almeno questo mi aspetterei dalla politica. Ecco e quindi qui c'è un altro discorso, l'eolico offshore sulle piattaforme galleggianti che potrebbe tranquillamente sviluppare l'industria italiana anche l'industria di stato l'Eni. E poi c'è il discorso che diceva Franco e che ha sollevato anche Virginia della neutralità carbonica. È chiaro che non è che hanno alzato le mani le multinazionali del fossile. La neutralità carbonica è una grossa trappola perché col discorso del carbon capture va bene quella è una favola ma soprattutto l'assorbimento forestale piantare nuove foreste ma qui le foreste si stanno perdendo. Sì è vero che in Italia stanno aumentando le foreste ma a livello mondiale stanno diminuendo in maniera terrificante. Qui non si gioca con il clima. È una questione di concentrazione, di chimica. Si misurano queste cose e se la foresta una volta che brucia non solo riemette tutto quello che è assorbito ma prima che riassorba quello che assorbiva prima deve ricrescere, deve ricrescere per 20-30 anni prima di arrivare a quel livello. Quindi è una grande diciamo strategia per non fare quello che serve, per allontanare l'obiettivo che è necessario perché abbiamo visto come sta, in che scenari siamo sui cambiamenti climatici. Quindi questo discorso della neutralità carbonica è anche un discorso che tocca l'Unione Europea, tutte le pressioni che si fanno sul nucleare eccetera eccetera. Nascono, sono tutti tentativi per evitare di ridurre le emissioni. Non apriamo il capitolo nucleare se non parleremo di tantissime cose anche del fatto delle emissioni che produce che tutti dicono che ha emissioni zero e che non è assolutamente vero perché tutta la filiera non è a emissioni zero. ecco, riguardo all'altra domanda, ecco la siccità in Sicilia. Io alcuni anni fa ho partecipato per la parte climatica al piano agricolo regionale, ma lì è tragica, lì c'è una situazione di per adesso di aridificazione che può essere diciamo invertita da un'agricoltura come quella di cui parlava Alfio che mantiene la qualità dei suoli, che alterna filari a coltivazioni, a monoculture, per mantenere l'umidità e la rigenerazione dei suoli. Se si lasciano le cose così, dall'aridificazione si passa alla desertificazione e invertire la desertificazione è veramente un problema grosso, 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 lo sanno bene in Africa. Ecco, e quindi su questo c'è tutta la mia solidarietà rispetto all'allarme che ha lanciato, che purtroppo è inascoltata, perché di questo piano regionale parlo di almeno dieci anni fa e quindi evidentemente non si è fatto nulla a riguardo. C'era un'ultima cosa, agricoltura e fotovoltaico. Sì, sì, stavo ricordando subito. Agricoltura e fotovoltaico. Allora, intanto, perché dobbiamo fare il fotovoltaico sui campi agricoli quando ci sono tante infrastrutture, case, capannoni, infrastrutture viarie, parcheggi, tantissime superfici non produttive da un punto di vista biologico, agricolo, che possono prestarsi e comunque ci sono degli esperimenti. In Trentino lo chiamano agrivoltaico, ognuno può valutare se è necessario farlo o meno, che mettono i pannelli fotovoltaici su coltivazioni che hanno bisogno di un minimo di ombreggiatura, non possono stare alla pienezza del sole, quindi sono messi con degli spazi molto ampi anche tra un pannello e l'altro per far filtrare la luce del sole che serve. Va bene, insomma, sono cose che da un punto di vista tecnico e forse anche agricolo possono avere un senso, ma non c'è bisogno di pensare a queste cose quando abbiamo ancora un'enormità di superfici già non produttive biologicamente che possono essere utilizzate. Alessandro Scassellati? Io volevo chiedere ad Andrea chi dovrebbe essere secondo te l'accompagnatore di questo processo, perché quando tu mi dici le CERS significa fare animazione sui territori, che è un'animazione sia di tipo tecnico sia di tipo ovviamente sociale, il fatto di stare insieme, di costituire, di costruire diciamo una comunità. Ecco, chi è? Chi può farlo sto lavoro? Perché pensare che solo dal basso, diciamo, nel mezzogiorno si possano costruire diciamo appunto questi gruppi, auto-organizzarsi da soli, ecco, credo che sia piuttosto complesso, ecco, è un tema che ci vorrebbe un acceleratore, qualcuno che si, come si dice, si prende la briga e si occupa di fare, di accompagnare questo percorso. In teoria lo dovrebbe fare lo Stato, no? Ecco, ma lo Stato, come sappiamo, lo Stato, dico, lo Stato nelle sue varie articolazioni. Però, ecco, mi sembra che appunto, prima è stato evocato il piano Mattei, ecco, che viene sventolato come non solo una soluzione per bloccare l'immigrazione dall'Africa, perché questo ci è stato detto dalla nostra Presidente quando andata in Etiopia, ma anche come una grande possibilità per lo sviluppo del mezzogiorno, ecco, questo è quello che ci viene detto. Quindi evidentemente non c'è assolutamente una sensibilità per questo tipo di percorso. Ecco, grazie. Perdonami, ma tu mi hai stimolato su una cosa che mi ribolle. La nostra amata Presidente del Consiglio, ad Addis Abeba, non ha speso neanche una parola, una commemorazione per il massacro fatto dai fascisti dopo l'attentato Graziani. Poi è venuta qui, ha detto che le tragedie nazionali della storia italiana erano altre, va bene. Scusate la parentesi, ma è qualcosa che io trovo, questa rimozione, questo strabismo storico che è qualcosa che forse è la cosa più pericolosa di questo governo, perché piano piano batti e ribatti passano queste cose nella gente. Ecco, chi deve farlo questo? Intanto si possono costituire, chi? Potremmo essere noi, potreste essere voi, potrebbero essere tanti soggetti coalizzati insieme, delle reti delle comunità energetiche che si scambino le esperienze, perché non è facile realizzarle, c'è qualcuno che è più avanti e quindi se si fa una rete c'è uno scambio, già c'è in parte, al nord e anche a Roma c'è uno scambio tra le poche iniziative, voi come avete fatto, come avete risolto questo problema. Quindi penso che anche questo si può in qualche modo affrontare dal basso, ma poi ci vuole un'interlocuzione con le amministrazioni locali e incalzarle, se non sono sensibili. Ma penso che la forza avviene quando c'è una rete, se c'è una rete nazionale che spinge, che in parte comincia a dimostrarne la convenienza e poi, sai, è sempre imbarazzante per un'amministrazione locale, anche se di colore diverso da quello che piace a noi, possa sbattere la porta in faccia, perché poi il modo di farlo lo stesso c'è, con più fatica, ma la cosa funziona. Se non voglio andare troppo avanti nella fantasia, se no divento troppo utopista, ma qui sono comunità che mettono insieme dei soldi da una parte dei proventi, che non è che diventano ricche, sono piccole, ma è interessante che siano collettive, possono essere spese come vogliono loro e quindi in teoria, essendo un po' utopista e guardando avanti nel tempo, potrebbe anche essere e nascere un fondo di solidarietà, mettendo insieme una rete via via che si ingrandisce, che aiuta e sostiene nelle situazioni più difficili la formazione di nuove comunità energetiche. Ma qui siamo alla fantasia. domani, Russo Spena? Sì, io sono molto grato a Maria, ad Andrea, per questo seminario, per questo approfondimento che mi sembra interessantissimo. Molte domande sono state già fatte, quindi io riprenderò soltanto due punti. Il primo punto che mi sembra dobbiamo coltivare proprio come ricerca, ragione franca, continuare in questi seminari, è questo dato inedito rispetto, diciamo, al mainstream attuale della relazione di Andrea, che collega praticamente la transizione energetica al cambiamento del modello di sviluppo, ma anche alla democrazia. Quando giustamente, io tra l'altro sono della zona, sono molto interessato, collega le seterie di San Leucio, cioè, come dire, una forma una forma un po' traiette di industrializzazione territoriale. Beh, ricordiamo pure che nella stessa zona c'è stato invece lo stravolgimento, tutto lo spostamento a Biella di tutto il gruppo tessile, per cui il gruppo tessile biellese era casertano, e invece è stato spostato appunto il sorgimento, rivoluzione mancata, diceva appunto Gramsci. È interessantissimo, diceva, dicevo, il rapporto sviluppo, che noi, in verità, chiamavamo a metà degli anni settanti, ricordo di averci fatto anche un testo nella rivista giuridica dell'ambiente di cui ero uno dei redattori, lo chiamavamo sviluppo autocentrato. Lo sviluppo autocentrato è questo, proprio uno sviluppo che riesce a collegare ambiente e lavoro partendo dalle risorse del territorio e con la democrazia appunto di auto-organizzazione appunto del territorio. Per un cambiamento del modello sviluppo. Io credo, ma è stato già forse chiesto, se era già fatto il problema, credo che il problema a questo punto sia Euro-Mediterraneo. Abbiamo pure il problema Euro-Mediterraneo anche che lì devi rompere in qualche modo una strategia, perché è chiaro che l'hub di cui ha parlato Draghi a Pari prima, ripreso in maniera un po' fedisse qua dalla Meloni, è chiaro che è un hub mercantile di trasferimento e di passaggio attraverso il sud, credo che lo dicesse anche Franco e quindi non lo riprendo. E sono d'accordo appunto con Andrea, non solo, vabbè, non ha parlato ad Addis Abeba di che le misparte di Graziani, non è solamente la Meloni, eh? Teniamo conto che l'Italia è l'unico paese che non ha mai, non ha mai avuto eh un processo nei confronti del proprio criminale di guerra. Tutti gli altri paesi che rappele hanno avuto, su questo appunto ci è capitato di discutere e di scrivere da alcuni di noi e ehm teniamo conto che qui vi è un problema, quindi da un lato, vabbè, quello che Samir Amin, certamente Andrea lo ricorda e lo ha studiato benissimo, chiamava lo sganciamento rispetto all'euro mediterraneo, il rapporto mezzogiorno euro mediterraneo con una teoria dello sganciamento. Ovviamente questo è stato un po' dalla globalizzazione eh marginalizzata. Il secondo punto che ti volevo chiedere Andrea eh io ho ascoltato perché siamo siamo amici ho ascoltato durante una riunione della redazione di Left di cui abbiamo entrambi partecipato una una preoccupazione di Massimo Serafini che si interessa appunto delle comunità energetiche rinnovabili locali dicendo che ma non ho ma non so non ho mai approcondito dicendo che il governo stava mettendo proprio perché aveva un'altra idea di ab energetico eh stava mettendo dei bastoni fra le ruote cioè stava creando delle difficoltà alla rete io sono d'accordo con te il problema appunto è la rete che c'è per nascere dal basso per pazienza occorre comunque collegarla eh e così via ehm ecco io non so non ho capito non ho capito bene quindi se come dire era un po' idealistico quello che diceva Massimo Serafini oppure se veramente in qualche modo è possibile ecco io non vorrei che ricordava Roberto facessimo in qualche modo la fine eh della legge sul regime dei suori io ricordo che il primo di cui ne ho sentito parlare ma ero giovanissimo fu Fiorentino Sullo perché la prima proposta era di Fiorentino Sullo che era un democristiano di sinistra e poi De Mita che era il suo capocorrente democristiano di sinistra lo fece fuori da ministro per bloccare la legge sul regime dei suori ovviamente per gli interessi prevalenti quindi la storia in qualche modo se lo deve ripetere avrei altre domande però te sono state già fatte non ti voglio non voglio allungare ti ringrazio molto allora eh la la norma come uscita non è eh quella il meglio che si possa desiderare ma è un punto di partenza io sono convinto che se si comincia a a a riempire lo spazio eh troppo ristretto che è stato dedicato alle comunità energetiche la cosa gli scoppia tra le mani no? Questa convinzione perché quando si comincia a spargere la voce per questo dico importante fare rete mettere eh a conoscenza delle singole le singole esperienze quando si sparge la voce che conviene che la gente è contenta anche perché si sente protetta dalle speculazioni sul costo dell'energia eh quindi c'è un discorso anche diciamo di questo genere e il cittadino è impotente rispetto a queste faccende internazionali eh non non immagina nemmeno dov'è che si forma il costo dell'energia di balle poi se ne raccontano tante e il fatto stesso che uno si sente protetto nello stare insieme diventa un volano enorme si si sparge la voce che se sono fatte fossero anche soltanto cinquanta che sono contenti ci stanno guadagnando sono tranquilli il loro costo dell'energia è stabilizzato e la cosa gli scoppia tra le mani allora lo spazio si deve allargare perché a quel punto c'è una forza c'è una forza politica che preme e e e si può cominciare a scardinare a ottenere il passo successivo noi lo vogliamo fare facciamone un po' di più oppure troviamo situazioni alternative e questo si vede ma io sono convinto che già riempire questo spazio è un risultato politica enorme lo piccolo spazio eh troppo piccolo non è io avrei avrei puntato almeno al doppio come fase iniziale perché secondo me anche la rete così come l'avrebbe potuto sostenere e però insomma è è uno spazio che va riempito quelle sì importante va riempito al più presto perché non aspettano altro che dire noi abbiamo aperto questo spazio ed è rimasto mezzo vuoto posso fare io una domanda volevo però ricordare anche rispetto all'interessantissimo discorso per quel che ne ho capito del bioregionalismo che eh se come si minaccia e cercheremo di di scongiurare questa minaccia ma la minaccia imminente eh dovesse passare il dispositivo il combinato tra eh la la previsione dei LEP la determinazione dei LEP e il DDL Carderoli noi avremmo entro un anno circa anche meno la possibilità che una serie di materie che parlano che sono strettamente interconnesse le voglio ricordare una materia attualmente di legislazione esclusivamente potestà legislativa esclusivamente statale come la tutela dell'ambiente dell'ecosistema e dei beni culturali e diverse materie attualmente di potestà legislativa concorrente come il governo del territorio tutte le infrastrutture porti aeroporti civili grandi reti di trasporto e di navigazione poi produzione e trasporto di distribuzione nazionale dell'energia valorizzazione dei beni culturali ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali che sono diciamo appartengono ad una medesima razio devastante potrebbero appunto finire tutte nella potestà legislativa esclusiva delle regioni e quindi io credo che poi sperando naturalmente che questa ipotesi sia ancora scongiurabile come stiamo cercando di adoperarci insomma a fare credo che però si debba fare conti anche con questa potenziale realtà ecco come come possiamo immaginare in una situazione quale quella che si verrebbe a determinare il combinato tra tutte queste materie tra tutte queste competenze gestite in maniera proprietaria e differente da tutte le altre regioni da ciascuna regione mi sembra una situazione estremamente non solo problematica ma anche proprio ingarbugliata nella nella dimensione di un pensarla di un immaginarla ecco bella domanda spero che tu non voglia una risposta da me no vorrei una riflessione più che una risposta perché se tu avessi la risposta ti chiuderemo immediatamente nei commenti il mio atteggiamento è molto umilmente di riempire gli spazi le fessure nei nei muri di cemento armato che ogni tanto si aprono con la convinzione l'ottimismo che entrando in queste in queste fessure si riesce ad allargare si riesce a entrare come la nibblolina che passa sotto le porte oppure per per essere visto che ho confessato di essere napoletano come la teoria del pappice che piano piano spertusa la noce dimenticavo di dire che entrambi i editori erano cassettati stasera siamo proprio San Leucio Tu mi stai dicendo di fare una guerra al governo? Io guardo proprio non ho strumenti non ho più che essere così sentirmi così disarmato e sconcertato non so che che suggerimenti che aiuto darvi però questi spazi che ci sono riempiamoli perché questo non ci questi non ce li possono togliere non ce li possano togliere allora ci sono altre altre interventi altre domande altre considerazioni direi che possiamo chiederti di chiudere in modo da poterci dare appuntamento alle prossime tappe di questo percorso che come giustamente dice Franco non finisce qui lavoreremo per possibili e magari anche così interessanti come questo di oggi però l'onore e l'onere della chiusura della serata aspetta Marina io direi sì grazie Roberto direi che la diciamo la 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 il nostro incontro di oggi dimostra che la la collaborazione tra il laboratorio del sud tra l'osservatorio l'unione europea e i comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata è essenziale sia dal punto di vista della formazione nostra e di chi ci ascolta ma anche dal punto di vista della propositività certo oggi sono state individuate attraverso le parole e le proposte questo ho apprezzato particolarmente di Andrea delle chiavi di lettura di cui noi adesso siamo tutti testimoni e possiamo in qualche modo adoperarci appunto per occupare gli spazi come lui ci suggeriva io credo che il tema dell'autonomia differenziata intercettando sostanzialmente tutto l'esistente umano in questo momento in questa logica onnivora e rapace dei cosiddetti governatori delle regioni in realtà i presidenti di regione che appunto avocano a sé poteri inammissibili quasi e eppure probabilmente diciamo se non accade davvero una svolta se non accade davvero che questo diventi proprio per la sua trasversalità per la sua devastante universalità questa non diventi davvero una battaglia di massa di popolo modello sto pensando alle lotte alle resistenze che vediamo a pochissimi chilometri da noi per cose sinceramente molto meno devastanti tra parentesi c'è anche la previdenza integrativa tra le materie disponibili per le regioni a statuto ordinario secondo l'autonomia differenziata davvero se dico tutto è tutto c'è l'alimentazione ci sono i rapporti con l'unione europea e così via ecco io credo che la chiave di lettura che stiamo cercando di dare sia comunque importante possa in qualche modo non solo ripeto corroborare la nostra preparazione io credo davvero che studiare impegnarci a capire le questioni anche le questioni più lontane da me per esempio quali quelle di cui si è parlato oggi come noto insegno italiano e latino in un liceo classico quindi sono ben lontana da queste problematiche però io credo che rappresenti anche una possibilità di allargare diciamo l'interesse e anche la mobilitazione sulle sulle materie di cui ci stiamo occupando oltre che appunto la comprensione di fenomeni che davvero riguardano tutte e tutti noi quindi io ringrazio tantissimo Andrea per la sua relazione ringrazio tutti gli interventi chiedo a Franco di ricordarmi quale sarà o a Roberto quale sarà la prossima iniziativa che comunque ci riguarda tutte e tutti quelli che siamo qui ma di cui non ricordo la data dunque Marina grazie mille nel senso che il prossimo appuntamento collettivo cioè comitati laboratorio sud e osservatorio sarà dedicata ai fondi strutturali e quindi aspettiamo che Andrea e Paola ci dicano quando sono pronti appena sono pronti appena sono pronti noi comunicheremo la data e spero che abbia il successo che ha avuto stasera insomma questa iniziativa grazie mille Andrea grazie grazie a tutti e a tutti grazie anche io Andrea e Marina e tutti buonasera ciao 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 Chi non ha firmato? Io l'ho firmato la prima domenica buon venticinque aprile Chi ha firmato l'appello per le dimissioni? l'abbiamo filmato fatto immediatamente buonasera a tutti e tutti ciao